Ben trovati per la nostra edicola La Rassegna Stampa con i principali quotidiani nazionali e locali, oggi anche web. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo d'apertura è dedicato al PNRR e quindi PNRR è la trattativa su una clausola per salvare i fondi. L'ipotesi di dirottarli sull'efficienza energetica Tagliani, la Commissione UE, non si schieri. Berlusconi spinge sul centrodestra europeo il no di Salvini. La cronaca, io in cella e mia figlia volevano dei nomi. Eva Caili racconta la sua verità. Parliamo dell'euro parlamentare finita in carcere per il Qatargate. Alessandro faceva paura, disse a Giulia, dormi da me. Il femminicidio, i verbali, della 23enne fidanzata con il killer. A centropagina vediamo incursioni, prigionieri, battaglia a Belgorod, fronte interno, l'attacco di gruppi russifilo-ucraini. L'articolo di fondo è a firma di Paolo Valentino, pensare scenari di tregua, armi e diplomazia. Oggi la giornata mondiale dell'ambiente. Il Corriere, verde per l'ambiente. Vediamo il colore diverso della prima pagina del Corriere. Un titolo di sport. Ibra, le lacrime di un campione. Il saluto a San Siro e il giocatore svedese che si ritira dal calcio giocato. America-Cina, se viene evocata la guerra, scrive Guido Santevecchi. Di taglio basso, invece, vediamo la rubrica Ultimo banco di Alessandro D'Avenia, educazione duale. Passiamo al quotidiano La Repubblica, è ancora prima della prima pagina, ma mostriamo la copertina che ha dedicato il quotidiano per la giornata dell'ambiente. Come abbiamo detto, il titolo I colori del clima che cambia, a firma di Maurizio Molinari. Questa grande immagine colorata viene spiegata nell'incipit dell'articolo a Corredo. Si legge che sono le strisce del clima che rendono più facile visualizzare l'impatto del surriscaldamento della temperatura che aggredisce l'ambiente e spiega siccità e alluvioni che continuano a colpirci anche in Italia. Questo scrive la Repubblica in merito alla giornata mondiale dell'ambiente. Passiamo alla prima pagina vera e propria, vediamo anche qui in primo piano i fondi europei, chi ostacola il PNRR, le difficoltà della maggioranza. L'esecutivo indica le 120 misure a rischio dall'idrogeno ai piani antialluvione, ma senza il recovery, la crescita crolla. Individuati i ministeri che hanno il maggior numero di progetti bloccati. Sulla Corte dei Conti calenda con Palazzo Chigi. Il ministro Urso, vogliamo spostare i fondi sull'energia. La UE ci dica sì. Santa Lucia, presidente della NM, governo illiberale, toghe pronte allo sciopero. L'editoriale a firma di Ezio Mauro, lo scettro e la spada. Vediamo anche qui a centro pagina, Belgorod colpita dai raid dei ribelli anti Putin. Da settimane tengono sotto scacco le forze russe. Vediamo nella grande fotonotizia i combattenti, il fondatore del corpo volontari russi, Denis, con i suoi compagni. Di spalla, politica, viaggio in Toscana nell'ex feudo rosso tra le ferite del PD. Chiusi nei confini con la paura dello straniero. Diritti Italia, che errore sostenere il regime di Tunisi. Il Nobel Maria Ressa, come difendere le democrazie. Taglio basso, parla l'altra compagna, parliamo di cronaca, dopo il delitto sentiale, e mi disse, ora Giulia dorme, anche qui racconti dai verbali delle indagini. La storia, asilo nido al liceo per salvare la maturità di Sofia. Passiamo ora alla gazzetta del mezzogiorno e vediamo terrore sull'A16. Bus Lecce-Roma travolge auto e precipita nell'incidente un morto e 15 feriti. I testimoni. Il mezzo della Flixbus si è trovato di fronte a cinque vetture ferme dopo un tamponamento. Anche qui vediamo il femminicidio nel milanese. Avevo paura, proposi a Giulia di stare da me, parla l'amante di Impagliatiello, il parroco, presto per il perdono. Vediamo una fotografia di Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese e uccisa dal compagno. Sottotestata allo sport, Bari verso la A, tutta la città aspetta giovedì, corsa a promozione, la partita di andata a Cagliari. Ipotesi sulla vendita tra fondi stranieri e imprenditori locali. Il Bari sarebbe nel mirino di un fondo americano e di uno arabo. Quest'ultimo, in particolare, avrebbe offerto a De Laurenti su una cifra vicina ai 100 milioni. Non si può comunque escludere un affondo del Molino Casillo, attuale main sponsor dei Galletti, nonché colosso dell'imprenditoria pugliese. Rubrica Le Idee, il lavoro povero nascosto dietro i numeri di Pino Pisicchio e in Ucraina la vera partita è il Donbass, scrive Andrea Di Consoli. Se la Movida è fracassona, il Comune deve risarcire la Cassazione da ragione ad una coppia di Brescia. L'edicola del Sud, terrore sulla Canosa Napoli, feriti sul Pullman e un morto. L'incidente, il Flixbus proveniente da Lecce, diretto a Roma, precipita in una scarpata, salvi i passeggeri, molti dei quali pugliesi. Vediamo la fotonotizia. Parla Costanza, ora più donne nei board delle società. Il focus, i matrimoni fanno ricca la regione. Verso il voto, alle comunali sarà derby fitto gemmato. E ancora oggi il vertice tra i dem e liste civiche. Apre Parco Maugeri, un polmone verde dove prima si moriva l'inaugurazione a Bari. Uccisa dal padre, autopsia sul corpo di Mariangela, il delitto di monopoli. Rebus, candidatura in città, arriva Giuseppe Conte. La politica affoggia. Ladri fuori controllo dai residenti. S.O.S. alle istituzioni. L'escalation a Matera. Vediamo anche qui l'edicola del Sud. Edizione di Lecce, torre Chianca protesta, subito fogne, pulizia e sicurezza. La manifestazione a Lecce. Adesso zona lama cambia volto con negozi uffici, il restyling a Tricase. E ancora l'ospedale a Francavilla, Asl, con corsi a vuoto. Così è impossibile riaprire il reparto. E la politica a Taranto, rimpasto, veto del PD su Italia Viva nella maggioranza. L'edicola dello sport. L'ultimo ostacolo. A Bari cresce l'attesa per la finale dei play-off. K.O. Lecce, ma è festa. Il 2-3 col Bologna chiude una stagione positiva. Basket per Sansevero. Il cuore non basta. Futsal, Bitonto fa sua, gara 1 per lo scudetto. Pugilato torna a far parte dell'Opacademy. Il sole 24 ore. Lotta al crimine. La polizia gioca d'anticipo. Intelligenza artificiale al lavoro su un algoritmo per le questure che predice furti, rapine e molestie. Diamo uno sguardo ai siti web di informazione. Vediamo in primo piano sul sito dell'Ansa. Ucraina, Mosca, sventata operazione su larga scala nel Donetsk. Sempre per quanto riguarda l'Ansa, nella pagina, nella sezione dedicata alla Puglia. In primo piano l'incidente in Irpinia. Bus in Scarpata, un morto e 14 feriti. Era partito da Lecce. Il quotidiano alla Repubblica. Anche qui, bus Flixbus partito da Lecce finisce in una Scarpata. Un morto e 14 feriti. Un passeggero stavamo dormendo. Poi il botto. Bari Today, inaugurato il Parco Maugeri nel quartiere Libertà di Bari, oltre 16.500 metri quadrati di verde e aree per il tempo libero. Costato 2 milioni di euro, con finanziamento del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane. È stato realizzato su terreni bonificati nell'ex gasometro. Foggia Today, c'è lo sport in primo piano. Il Pescara rimonta il Foggia. Biarkason rimette le cose a posto. L'andata del semifinale finisce in parità. Finisce 2-2 tra Rossoneri e Abruzzesi. Foggia subito avanti con Peterman al secondo minuto. Rafia risponde al 24esimo su rigore. In avvio di ripresa, Lescano porta avanti i suoi al 15esimo. Il pari di Biarkason si decide tutto all'Adriatico. Lecce prima, tutti in piedi per Umtiti. Il Bologna vince allo scadere, ma è una sconfitta indolore. Il Lecce fa festa col suo pubblico. I giallorossi passano in vantaggio con banda. Nella ripresa i gol di Arnatovic e Zirke ribaltano il risultato fino al pari di Odin. Nell'ultima azione, nel recupero di Felsine, gli assegno con Ferguson, ma poco prima Blin aveva fallito un'occasione clamorosa. Bene, era questa l'ultima notizia. La nostra attenzione, grazie per averci seguito. L'augurio di una buona giornata.